Buonasera a tutti, grazie innanzitutto a Pasquale Ficocelli e l'emittente Teletrio che ci consente di raggiungere tutti. Vogliamo cogliere questa occasione per spiegare un po' per annunciare quelli che saranno i programmi dei festeggiamenti in onore del nostro patrono San Giuseppe. Innanzitutto quest'anno c'è una particolarità che vorrei spiegare subito perché molti chiedono ma perché il 20 non il 19? Quest'anno il 19 capita di domenica e la domenica salvo grandi momenti dell'anno liturgico può permettere di fare alcune solennità ma la domenica in genere essendo il giorno in cui la Chiesa fa memoria della Pasqua di Cristo risorto ha la precedenza su tutto perché il Signore ha la precedenza su tutto. Quindi quest'anno soprattutto è la quarta domenica di quaresima e la quarta domenica di quaresima in preparazione alla Pasqua ha la precedenza anche su San Giuseppe. Quindi la liturgia è la Chiesa stessa quindi non è il parroco, non è il Papa, non è il Vescovo, non è nessuno ma è la liturgia stessa che sposta la solennità di San Giuseppe al giorno dopo al 20. Ciò non toglie che il 19 nella domenica di quaresima potremo vivere la processione e i momenti che sto per elencare. Innanzitutto il culto è già iniziato da un mese circa, è iniziato in parrocchia il Sacromanto, la recita del Sacromanto quotidiano a San Giuseppe. Ringrazio davvero le signore, le donne, gli uomini che con ecco con devozione, con costanza stanno portando avanti questa devozione. Poi abbiamo vissuto in questi giorni le solenni quarantore ed esercizi spirituali parrocchiali. Ecco le quarantore sono un esercizio popolare molto antico in cui ecco si mette al centro l'adorazione di Gesù Cristo. Abbiamo pensato di accompagnarli agli esercizi spirituali parrocchiali. Abbiamo chiamato un predicatore che è venuto, Don Davide Enrico, che attraverso la parola di Dio ci ha fatto entrare nel mistero d'amore di Cristo e ha trattato tre incontri di Gesù. L'incontro con l'indemoniato di Gerasa, l'incontro con l'adultora, l'incontro con Zaccheo. Siamo entrati nella festa di San Giuseppe come è giusto che sia attraverso la preghiera. Siamo entrati attraverso Cristo. Innanzitutto, prima di dire quali sono i momenti che vivremo in questi giorni, ciò che spinge una comunità a festeggiare il Santo Patrono è la fede, la tradizione, ma soprattutto la voglia di stare insieme. Ecco, questi sono i tre pilastri di una festa. Festa, tradizione, storia e voglia di fare famiglia, voglia di essere famiglia, voglia di fare comunità. Allora tutti gli eventi, i momenti, non mi piace parlare di eventi, ma mi piace parlare di momenti che caratterizzano un percorso, hanno questi tre connotati. Innanzitutto, domani sera, qui in Chiesa, vivremo un reading teatrale a cura di Davide Roselli con la collaborazione dell'Accademia Rusalca di Carosino, laudato sì sulla vita di San Francesco. Ci aiuteranno attraverso opera teatrale e musica a riflettere su questo grande santo, ma non per fermarci a San Francesco, ma sempre di più per entrare in contatto con quella che è la figura di Gesù Cristo. Poi, giovedì sera, avremo un tema molto attuale, perché la nostra festa non può essere staccata da quello che è la storia, da quello che stiamo vivendo. Vivremo la presentazione di un libro dal titolo dal titolo Finché potrò vedere la luce di un caro amico Valerio Manisi di Grottaglie, che è un libro che narra di immigrazione, parla di immigrazione. Ecco, di questi tempi non possiamo essere indifferenti, non possiamo voltarci dall'altra parte. Noi che siamo un popolo di emigranti, di persone che nel corso della storia sono emigrati e tuttora, oggi, tanti dal nostro paese, purtroppo, per tante situazioni dal nostro sud vanno via. Ecco, non possiamo chiudere il cuore, soprattutto e nemmeno gli occhi, davanti alle tante persone che arrivano sulle nostre coste e che purtroppo muoiono e perdono la vita. Venerdì sera il maestro Bolognino, con il coro Regina Pacis e la banda Città di Crispiano, ci offriranno un concerto preghiera note di passione. Ecco, ci aiuteranno a entrare, perché siamo nel tempo di Quaresima, attraverso la passione di Cristo, attraverso la musica, ci aiuteranno a riflettere e a pregare su questo mistero d'amore che Gesù ha riversato su ciascuno di noi. E poi, ecco, arriviamo al Triduo, i tre giorni, clou della festa di San Giuseppe, perché sono stati pensati in modo da far vivere alla comunità tre giorni e non mettere tutto insieme come se fosse una cozzaglia dove devi scappare, perché già la nostra vita è frenetica. Se poi sei costretto a scappare da una parte all'altra non si capisce più niente. Ma abbiamo pensato di sabato sera vivere qui in piazza le tavolate di San Giuseppe, ecco, aiutati dall'Associazione per le Tradizioni Popolari, aiutati dalla generosità di tante persone, di tanta brava gente, vivere le tavolate che hanno uno scopo di stare insieme, di fare famiglia. E la serata sarà, ecco, animata da un momento musicale. Le tavolate, però, saranno in tre momenti. C'è una parte per la comunità, poi ci sarà una parte per le famiglie povere che riceveranno a casa, ecco, la generosità di tutta la famiglia, perché dobbiamo abituarci a essere famiglia, quindi a pensare anche ai più poveri, e porteremo anche parte della tavolata al dormitorio San Cataldo Vescovo di Taranto, così come abbiamo fatto l'anno scorso, perché alla tavola non possiamo essere egoisti e sedere solo noi, ma dobbiamo imparare a sedere a mensa con i nostri fratelli e sorelle più poveri. Poi domenica, in ogni messa ci sarà la benedizione dei papà, domenica mattina verrà a celebrare Don Pino Leone, nostro concittadino, prete di questa comunità che opera a Martina Franca. La sera la messa sarà alle 17, l'anticipiamo, dove il signor Sindaco consegnerà al Santo Patrono, a San Giuseppe, le chiavi della città, e poi il simulacro sarà portato in processione per le vie del Paese. Al termine ci sarà uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Giorno 20, però ecco, il 19 è la domenica di Quaresima. Quest'anno la Chiesa fa celebrare la solennità giorno 20, il giorno dopo. Il giorno 20, pertanto, avremo la messa la mattina alle 9 e la sera alle 18 con la presenza del già vicario generale e ora vicario episcopale per gli affari generali, Monsignor Alessandro Greco. Al termine della Santa Messa una novità. Quest'anno abbiamo voluto istituire il premio San Giuseppe Custode. In che cosa consiste questo premio? Sottolineare e premiare una persona o un ente che nel nostro territorio, e nel territorio nazionale e anche fuori, si distingue per l'opera della carità. Perché la bellezza di San Giuseppe che noi dobbiamo riscoprire in quella spiritualità è quella dell'essere custodi. San Giuseppe ci insegna amare voce del verbo custodire e custodire voce del verbo amare. Una persona che ama sa essere custode, una persona che custodisce sa amare. Quindi allora abbiamo anche su quello che Papa Francesco ci ha detto nella Patris Cord e su quello che è tutto il percorso che Papa Francesco sta facendo, che in questo momento credo essere, non ho paura di dirlo, l'unico leader autorevole e l'unica voce autorevole in un mondo un po' folle, in base a quello che è il Magistero, le azioni di Papa Francesco, abbiamo delineato un regolamento di premio dove si individua appunto persona o ente che si occupa della cura della casa comune, della cura della persona, nell'ottica della custodia, dell'amore e del dare la vita. Colgo l'occasione per annunciare pubblicamente che il primo premio San Giuseppe Custode è stato assegnato all'unanimità dal Comitato San Giuseppe alla signora Rosanna Puzzolu. Chi è? Rosanna. Rosanna è una cooperatrice della Caritas Diocesana di Taranto ed è la direttrice del centro notturno San Cataldo Vescovo. Lunedì sera lei sarà qui in mezzo a noi, riceverà questo premio e ci darà la sua testimonianza. Vedremo come il bene non è una prerogativa di chi porta il colletto, di chi porta una fascia. Il bene è un dovere di tutti. Tutti siamo capaci e chiamati a fare il bene. Questa è una donna, una signora che ha messo la sua vita a servizio dei più poveri. E la sua testimonianza, non voglio togliervi nulla perché l'ascolteremo ed è per me una gioia perché ho potuto toccare con mano in questi anni davvero la passione e l'abnegazione di questa donna. L'ultima cosa che ci tengo a dire è che quest'anno la festa ci ha fatto riflettere molto perché noi non possiamo non considerare la situazione delle famiglie in cui versano, la situazione economica soprattutto, non possiamo non considerare il disastro immane, la follia della guerra, non possiamo non considerare le tante povertà che non iniziano da fuori i nostri confini, ma le tante povertà che molto spesso iniziano nelle nostre case. Quindi pur preservando, perché la festa è anche un momento di speranza, la festa è un momento che serve alla gente per stare insieme, per risollevarsi nei momenti bui, non potevamo dare uno schiaffo alla povertà spendendo inutilmente dei soldi che potevano servire per le famiglie più povere. Quindi abbiamo pensato, come ci ha ricordato anche il padre predicatore, che i segnali stradali sono sobri perché devono indicare subito dove devi andare. Ha fatto l'esempio se un amministratore comunale ha detto chiamasse degli artisti per fare dei segnali. Farebbero dei segnali che sono delle opere d'arte, ma fin tanto che uno li va a interpretare, li va a capire, va a sbattere o crea un tamponamento a catena e non arriva dove vuole arrivare. Ma un segnale deve essere sobrio e la Chiesa deve imparare oggi a essere profetica, a essere povera, a essere povera, dignitosa, vicina ai poveri. Quindi allora che senso ha fare dei fuochi fenomenali? Che senso ha fare delle luminarie che ti illuminano da qua per 300 chilometri se poi non riusciamo a portare luce, a portare calore a quelle persone che sono in difficoltà nel nostro Paese? A che serve illuminare il cielo a giorno se poi non riusciamo a vedere gli immigrati che arrivano sulle nostre coste, i poveri che non hanno un piatto da mangiare nelle nostre famiglie e nelle nostre case? Allora ci siamo confrontati col Comitato e abbiamo scelto di vivere tutto nella sobrietà, che non significa meno decoro, perché ci sono stati anche qualche buon tempone che ha fatto delle polemiche. Ecco, la sobrietà non significa mancanza di decoro. Non è che una festa è bella se è più grande. Una festa è bella se ti permette di stare insieme, di stare con gioia e di stare con Gesù. Tutte queste cose sono preservate, ma noi in coscienza non potevamo fare qualcosa che ingrassasse i ricchi, che ingrassasse l'industria bellica di armi con le tasse, che non tenesse conto dei poveri. Perché anche le feste dei Santi devono avere come regola il Vangelo. E questo lo dico a tanti, che purtroppo si sciacquano la bocca, che dicono che ci vuole la banda così, che ci vuole la luminaria così. No, ci vuole il Vangelo, ci vuole il cuore. Quindi ecco, la festa deve essere parte di un percorso che ci deve ricordare che celebrare San Giuseppe significa custodire quella che è la nostra casa comune, quella che è la nostra terra di Faggiano, quelle che sono le persone che abbiamo attorno. Altrimenti avremmo fatto una bella festa, ma poi dopo, finita la festa, che cosa rimane? La pancia piena, perché è mangiato alla tavolata, ma il cuore vuoto. E San Giuseppe questo non lo vuole. Adesso do la parola al Sindaco. Grazie Don Francesco. Saluto cordialmente tutti i cittadini di Faggiano per il tramite di Teletrio, che ringrazio per questa opportunità. Noi ci apprestiamo a vivere un momento particolare per la nostra comunità, quella del Santo Patrono. Un momento particolare che si può racchiudere in tre parole. Cultura, tradizione e fede. Quindi cultura e tradizioni sono quelli che prettamente un'amministrazione deve fare, perché sono molto importanti per far sì che queste tradizioni possano continuare nel tempo. Quindi credo e ritengo che mai come oggi, amministrazione, parrocchia, cittadini, insieme dobbiamo inculcare, lasciatemi passare il termine, ai giovani quanto sia importante poter continuare con queste tradizioni. Perché la tradizione è cultura, la cultura è crescere, quindi una comunità cresce culturalmente se portiamo avanti le tradizioni. Certo, importantissima è anche la fede, ma per questo il nostro grande e bravo Don Francesco sa come fare per portare i cittadini in chiesa. Quindi l'invito che faccio alla cittadinanza di Faggiano è quello di partecipare. Partecipare perché, ripeto, è importante lasciare un segno ai nostri ragazzi, soprattutto in un periodo post-pandemico, ma in un periodo di globalizzazione, dove i nostri ragazzi sfuggono a quelli che sono le tradizioni, che per me, io reputo, siano molto ma molto importanti. Quindi, ripeto, l'invito che faccio a tutti i cittadini di Faggiano è di partecipare e di tramandare questa bella tradizione che è la nostra festa patronale. Viva San Giuseppe, viva Faggiano. Permettetemi un grazie alle tante persone del Comitato che si stanno spendendo gratuitamente per la riuscita della festa e un grazie a tutte le persone di questa bella comunità. Spesso a volte si dice, ma la comunità, no, Faggiano è un bel paese, Faggiano davvero merita una bella festa. Una bella festa dove, ecco, tutti insieme possiamo stare a condividere non solo una fede, ma a condividere dei valori, a condividere quello stare insieme, che soprattutto in momenti come questi, e penso alle tante persone sole, gli anziani, gli ammalati, le persone disperate, ecco, sentire l'abbraccio della comunità, la custodia della comunità, perché alla fine San Giuseppe ha senso come custode se io mi faccio custode dell'altro. Altrimenti la statua sta là e io dove sto? Oggi Faggiano ha bisogno non di statue che camminano, ma ha bisogno di cuori che si impegnano per il nostro paese. Allora vi aspettiamo e buona festa di San Giuseppe a tutti gli abitanti di Faggiano che sono qui e anche a tutti gli abitanti di Faggiano, a tutti i faggianotti che sono sparsi dappertutto e che tramite teletrio, che ringrazio ancora una volta, potranno seguire tutti i festeggiamenti. Viva San Giuseppe e viva Faggiano!